La morte della psichiatra di Mercogliano resta un giallo. Non è bastato l'esame autoptico eseguito dal medico legale Carme e Sementa su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino per accertare la verità sulla dinamica del decesso di Antonella Bruno, la 61enne psichiatra e terapeuta rinvenuta cadavere nella piscina del suo appartamento al primo piano di uno stabile di Via Nazionale Torrette. Saranno necessari test tossicologici e patologici, quindi altri 90 giorni di approfondimento, per comprendere con certezza le cause che hanno determinato la morte della donna. La tesi più accreditata resta quella dell'incidente, anche perché già l'esame esterno aveva escluso la presenza di segni di violenza sul corpo della vittima. La 61enne caduta in acqua fosse a causa di un malore o per aver messo un piede in fallo e deceduta per annegamento. Insomma una fatalità anche se l'acqua nella piscina, allestita presso la propria abitazione, non era eccessivamente alta, circa un metro e trenta centimetri. Resta però ancora in piedi l'ipotesi del suicidio. Il corpo privo di vita della 61enne venne rinvenuto all'alba di lunedì scorso da un condomino che lanciò l'allarme avvertendo i soccorsi. Addosso la donna aveva una vestaglia. Sul posto intervennero gli agenti delle volanti di polizia e vigili del fuoco. A Caschi Rossi venne affidato il compito di rimuovere il cadavere dalla vasca per trasportarlo all'obitorio dell'ospedale Moschiati. Dopo l'ispressione cadaverica sul caso la procura ha aperto un'inchiesta. Secondo alcune testimonianze raccolte sul posto, la professionista era tornata domenica ad un viaggio in Sicilia. La sera della tragedia era alla ricerca dei suoi gattini a bordo della piscina. Potrebbe essere caduta proprio mentre tentava di recuperare i suoi affezionati bicetti. La dottoressa Antonella Bruno era molto conosciuta e stimata anche negli ambienti sanitari. Una donna combattiva e tenace, sempre in prima linea per rilanciare la funzionalità dei consultori familiari in città. Domani mattina alle 9 l'addio alla psichiatra nella chiesa di Torrette di Mercogliano.